La capitaneria di Porto adesso vuol vederci chiaro ed è avviato un'attività ispettiva per verificare se la piattaforma della discordia sia a norma. Sta di fatto però che a Levanzo montano le polemiche e le proteste su quella struttura realizzate in un angolo del porto con lastre di ferro piantate sugli scogli e sul cemento. In molti parlano di scempio. Secondo l'albo della regione siciliana si tratta di un solarium elioterapico. Gli isolani però non ci stanno, parlano appunto di scempio ambientale che deturpa un poesaggio incontaminato. La grande struttura in ferro ancora non completata di circa 800 metri quadri con un'area coperta di circa 70 metri quadri che diventerà un grande solarium elioterapico con pedane con discesa a mare della struttura alberghiera pensione dei Fenici. Ha ottenuto le autorizzazioni stagionali del demanio marittimo, della sovrintendenza ai beni culturali e del comune di Favignana che ha autorizzato i lavori. La ditta che ha ottenuto i permessi è la Macetra S.p.A. di Giuseppe Maurici. La procedura spiega il sindaco delega di Francesco Forcione iniziata nel 2017 prima del mio insediamento e la concessione demaniale è del luglio 2020 e a tutti i permessi della regione. Adesso con i nostri uffici stiamo valutando la situazione, avvieremo tutte le verifiche del caso. Adesso in campo è scesa la guardia costiera che ha avviato un'attività ispettiva.